Ciao ragazzi, oggi vi insegnerò come si esegue una pistola. Allora, abbiamo bisogno di un palloncino dell'albe, gonfiato per lo più quasi tutto, lasciamo 3 o 4 dita. La prima cosa da fare è l'impugnatura, una bella salsiccia di 5 o 6 dita, fare una piccola pallina e fare una torsione all'orecchio. Facendo la torsione all'orecchio si è risultato di un angolo a 90 gradi. Successivamente fate un bel ceto grande, quindi una bella torsione ad anello, un anello che poi ci servirà per far passare dentro la nostra pistola. Un'altra piccola pallina, più o meno 2 dita, con un'altra torsione ad anello. Ok. E ora fate passare dentro il resto del palloncino. Ed ecco qua la nostra pistola. Potete anche usarla come fono, eh! Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale del Mago Dario per scoprire in anticipo tutte le novità per quanto riguarda la magia, le sculture palloncini, animazioni in genere, balli di gruppo. E mi raccomando, la parola magica è... Abracadar! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.